Ben 85.000 fuochi d'artificio in 742 confezioni erano ammassati in un deposito chiuso all'interno del quale c'erano anche dei materiali altamente infiammabili come carta, cartone, plastica, vernici e anche plastica. Sarebbe bastata una piccola scintilla per poter causare un incendio di ampie proporzioni. La scoperta è della Guardia di Finanza di Spilimberg, un piccolo comune friulano sulle sponde del tagliamento. I finanzieri hanno sequestrato il deposito e denunciato il titolare, un cittadino cinese. Le forze dell'ordine sono molto impegnate in questo periodo dell'anno nei controlli come richiesto d'altra parte dalle direttive del Ministero dell'Interno per garantire la sicurezza pubblica, specie in questo periodo dell'anno quando si intensificano molto le domande di fuochi d'artificio e tutta la parte relativa alle regole basilari di prevenzione viene meno. Ed è tutto.